Giuseppe Delia, coach importantissimo nell'economia della squadra, oggi l'abbiamo visto molto molto elettrizzante, una partita veramente al cardiopalma, una partita vinta forse anche dalla panchina, gli ultimi cinque minuti un richiamo diciamo così del coach ha riportato la serenità nella squadra che sembrava smarrita. Sì oggi abbiamo finalmente capito che anche se magari in attacco possiamo avere delle serate come è successo oggi o come è successo a Carrara le partite poi le possiamo vincere anche segnando solo 50 punti ma difendendo come abbiamo difeso per tre quarti molto bene, mi riferisco al primo, al terzo e al quarto quarto dove l'attacco avversario non ha superato i 10 punti messi a segno e questa è una cosa importante, basta pensare che la partita è finita 50 a 43 e di questi 43 punti concessi 18 sono stati concessi solo nel secondo quarto, quindi abbiamo fatto una partita dove in tre quarti abbiamo subito 25 punti, quindi questo ci deve dare uno stimolo maggiore, poi è normale che in una partita in cui fai il 58% dei tiri liberi in casa e fai 20 palle perse è normale avere un punteggio così basso, abbiamo sfatato un pochettino le difficoltà avute a Carrara contro la zona, ci siamo preparati bene in settimana, quindi per il momento nonostante il risultato basso sono abbastanza soddisfatto perché il lavoro fatto in settimana ha prodotto questa vittoria. Grazie 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 Grazie